Grazie per essere qui questa mattina con noi. Vorrei parlarvi alcuni minuti di un grande evento, di una grandissima manifestazione che verrà qui in Italia, che è l'esposizione universale del 2015, che avverrà in sei mesi tra il primo maggio e il 31 ottobre del 2015. In effetti noi stiamo pensando a un evento che abbia un percorso anche di avvicinamento, quindi non è solo sei mesi, ma stiamo progettando una serie di eventi, di manifestazioni in questi anni, di avvicinamento all'esposizione universale. L'esposizione universale è sicuramente l'appuntamento più importante che l'Italia ha sul campo internazionale e quindi per quanto vi riguarda operatori del turismo è certamente l'opportunità più grossa, più importante che questo Paese possa offrire nei prossimi anni. Paese, voi sapete che il tema, o se non lo sapete, vi dico che il tema dell'esposizione universale di Milano è di grandissima attualità, è la nutrizione, nutrire il pianeta, energia per la vita, che significa quindi anche l'ecosostenibilità. Da una parte la nutrizione, quindi l'alimentazione, dall'altra la qualità dell'ambiente e l'uso delle risorse naturali. Tema di grande attualità oggi e soprattutto, io penso, il futuro per i prossimi anni. Un tema quindi importante, centrale per l'umanità e noi vogliamo realizzare un evento, un expo che sia centrato su questo tema, che non sia un'esposizione universale tradizionale, ma che offra davvero l'opportunità ai visitatori di avere un'esperienza unica, straordinaria, eccezionale, venendo qui a Milano in quei giorni e quei mesi. Noi stiamo in questa fase progettando, programmando l'esposizione universale. Tra qualche mese inizieremo anche nella fase di realizzazione del sito, che è proprio qui vicino, a fianco all'area della fiera. Come io, l'architetto Gatto, che è capo della squadra e responsabile di una squadra di giovani architetti, che lavorano poi con importanti architetti a livello di reputazione mondiale, che stanno realizzando, progettando il sito dove avverrà l'esposizione universale, è un'area molto grande di 100 ettari, quindi quasi un milione di metri quadri. Due parole da parte dell'architetto per sentire come stiamo immaginando debba essere il luogo dell'esposizione universale di Milano. Gatto. Buongiorno a tutti. È un'esperienza incredibile quella di progettare un expo e lo stiamo progettando con un'attenzione grandissima a rendere questo sito un sito unico e fortemente attrattivo per milioni, come ha detto l'onorevole Stanca, di visitatori. Sarà un sito incredibile dal punto di vista dell'innovazione, il primo grande vero expo del ventunesimo secolo. Posso dire? Intanto voi vedete qui delle immagini, rendering, per dare un'idea di come sarà il sito. Vai avanti. Sì. Sarà un sito improntato completamente alla centralità del tema. Per la prima volta, diciamo, nella storia delle esposizioni universali, avremo che tutto il contenitore è in se stesso contenuto. Come potete vedere da queste immagini, tutta l'attenzione è rivolta all'ambiente, al paesaggio e al rapporto con la nutrizione. Quindi noi vorremmo rendere attraverso questo sito, che nasce dalla penna di alcuni dei più grandi architetti internazionali, come Jacques Herzog, Stefano Boeri, William McDonough, Ricky Bardet e Joan Busquets, attraverso lo sviluppo della loro idea e del loro concept, vorremmo creare una situazione immersiva, sensoriale per tutti i visitatori, unica, che non si è mai vista nella storia delle esposizioni universali. Concludo dicendo semplicemente che sarà un'esperienza incredibile per i visitatori. Voi immaginate cosa vorrà dire immergersi sensorialmente nei gusti, nei sapori, negli odori di 150 culture di tutto il mondo, che potranno proporre e far degustare quelli che sono i sapori della propria cultura. 150 punti in cui potremo incontrare le culture, ma i sapori, i sensi di tutti i paesi del mondo.